Ciao a tutti. Nel video di oggi esploreremo un argomento affascinante e un po' controverso. Le criptovalute come parte della strategia di pensionamento. Con l'ascesa del bitcoin e altre valute digitali, molti si chiedono se e come le criptovalute possano essere integrate in un piano pensionistico tradizionale. Le criptovalute sono valute digitali o virtuali che utilizzano la criptografia per la sicurezza. A differenza delle monete tradizionali, le criptovalute sono decentralizzate e spesso basate su tecnologie blockchain che sono registri distribuiti e immutabili. Questo significa che le transazioni con criptovalute possono essere effettuate direttamente tra due parti senza l'intervento di terzi come banche o governi. Il cuore delle criptovalute è la blockchain. Questa tecnologia non solo supporta la valuta stessa, ma garantisce anche la trasparenza e la sicurezza delle transazioni. Ogni transazione viene registrata in un blocco di dati che poi viene verificato e aggiunto a una catena di blocchi esistenti in modo sequenziale. Questo processo rende praticamente impossibile alterare retroattivamente le informazioni senza che tutti i blocchi successivi siano modificati. Il bitcoin è stata la prima criptovaluta creata nel 2009 e da allora sono emerse migliaia di alternative, spesso chiamate altcoins. Alcune delle più note includono Ethereum, Ripple, Litecoin e Cardano. Ognuna di queste ha caratteristiche uniche e si basa su vari principi tecnologici, ma tutte condividono la base comune di essere costruite su tecnologie blockchain. Le criptovalute offrono diversi vantaggi, tra cui la riduzione dei costi di transazione, poiché eliminano il bisogno di intermediari finanziari. Offrono anche maggiore privacy nelle transazioni e la possibilità di accesso finanziario a chi è escluso dal sistema bancario tradizionale. Inoltre per molti rappresentano una forma di investimento o speculazione. Recentemente, alcuni piani pensionistici hanno iniziato ad includere le criptovalute come parte delle loro opzioni di investimento. Questo movimento è spinto dalla crescente accettazione delle criptovalute come classe di asset legittima e dal loro potenziale di alti rendimenti. Alcuni fondi di investimento pensionistico ora offrono la possibilità di allocare una piccola percentuale del portafoglio in criptovalute al fine di diversificare gli investimenti e potenzialmente aumentare il rendimento complessivo del fondo. L'aggiunta di criptovalute a un portafoglio di pensionamento può offrire diversificazione in un asset che spesso non è correlato direttamente con il mercato azionario o obbligazionario. Questo può ridurre il rischio complessivo e proteggere il portafoglio contro la volatilità di specifici settori economici. Inoltre, il potenziale di crescita a lungo termine delle criptovalute potrebbe significare una maggiore accumulazione di risorse per il pensionamento. Nonostante i potenziali benefici, investire in criptovalute comporta significativi rischi, particolarmente per i piani di pensionamento. La volatilità estrema delle criptovalute può rappresentare un rischio per chi si avvicina alla pensione e ha bisogno di stabilità nel proprio investimento. Inoltre, la regolamentazione delle criptovalute è ancora in uno stato di evoluzione, il che potrebbe portare a cambiamenti improvvisi nelle leggi che potrebbero influenzare il valore e la legalità di questi investimenti. Per coloro che considerano le criptovalute per il proprio piano di pensionamento, gli esperti consigliano generalmente di limitare l'esposizione a una piccola frazione del portafoglio complessivo. È inoltre consigliabile consultare un consulente finanziario che comprenda sia il tradizionale pianificamento pensionistico, sia il mercato delle criptovalute, per ottenere una strategia di investimento ben bilanciata e personalizzata. La regola d'oro quando si tratta di includere criptovalute nel proprio piano di pensionamento è la cautela. Date la volatilità e l'incertezza a lungo termine associate a queste asset class, è consigliabile limitare l'esposizione. Un'allocazione tipica potrebbe variare dall'1% al 5% del vostro portafoglio totale, a seconda della vostra propensione al rischio e della vostra prossimità alla pensione. Questo limita il rischio di grandi perdite, pur permettendo di beneficiare di eventuali rendimenti elevati. Il timing può essere particolarmente importante nell'investimento in criptovalute a causa della loro volatilità. Considerate di applicare una strategia di dollar cost averaging, dove investite una piccola somma di denaro regolarmente, indipendentemente dal prezzo del mercato. Questo può aiutare a ridurre l'impatto della volatilità sui vostri investimenti complessivi. Non tutte le criptovalute sono create uguali. Mentre Bitcoin e Ethereum sono tra le più conosciute e stabilite, ci sono migliaia di altre criptovalute sul mercato. Diversificare il vostro investimento in criptovalute tra diverse monete può aiutare a mitigare i rischi e a sfruttare diverse opportunità di crescita. È essenziale fare ricerche approfondite o consultare un esperto per capire quali asset potrebbero avere le migliori prospettive a lungo termine. Per coloro che preferiscono un approccio più tradizionale o sono preoccupati per gli aspetti di sicurezza e regolamentazione delle criptovalute, considerate di investire tramite strumenti finanziari regolamentati come ETF o fondi cripto, se disponibili nella vostra regione. Questi strumenti offrono un'esposizione alle criptovalute pur essendo incorporati in una struttura finanziaria più familiare e spesso sotto maggiore supervisione regolatoria. Investire in criptovalute per il pensionamento richiede un attento equilibrio tra il desiderio di ottenere alti rendimenti e la necessità di proteggere i vostri risparmi. Le criptovalute sono un campo relativamente nuovo e in rapida evoluzione in termini di regolamentazione. Diversi paesi hanno approcci molto diversi, alcuni hanno abbracciato le criptovalute introducendo leggi specifiche che ne facilitano l'uso e la commercializzazione, mentre altri sono più restrittivi. È essenziale restare aggiornati sulle leggi locali e internazionali che possono influenzare l'acquisto, la vendita e la detenzione di criptovalute, così come le loro implicazioni per i piani pensionistici. In molti paesi, i guadagni realizzati dalla loro vendita sono soggetti a tassazione come guadagni in conto capitale. Questo significa che è fondamentale tenere traccia accurata di tutte le transazioni per poter calcolare correttamente i profitti o le perdite al momento della dichiarazione dei redditi. Alcuni paesi richiedono anche la dichiarazione dei valori in criptovalute posseduti, simile alla dichiarazione di altri tipi di asset finanziari. Data la complessità e l'evoluzione della normativa fiscale e legale, è altamente raccomandato consultare esperti legali e fiscali che hanno esperienza specifica in questo settore. Un consulente qualificato può fornire consigli preziosi e aiutarti a evitare errori costosi che potrebbero influenzare negativamente il tuo piano pensionistico. Prima di investire in criptovalute, è fondamentale definire chiaramente i vostri obiettivi finanziari a lungo termine. Chiedetevi cosa sperate di raggiungere, che si tratti di crescita del capitale, diversificazione del portafoglio o altro. Avere obiettivi chiari vi aiuterà a rimanere concentrati e a prendere decisioni di investimento ponderate. Dato l'alto livello di volatilità, è importante non affidare una porzione eccessiva del vostro portafoglio pensionistico a queste asset. Un approccio bilanciato potrebbe includere una combinazione di investimenti tradizionali come azioni, obbligazioni e fondi immobiliari, con una piccola percentuale allocata in criptovalute. Questo vi permette di sfruttare il potenziale di crescita, minimizzando al contempo i rischi. Una volta che avete integrato le criptovalute nel vostro portafoglio, è essenziale monitorare regolarmente il loro rendimento e l'intero portafoglio per assicurarvi che sia allineato con i vostri obiettivi finanziari e il profilo di rischio. Il ribilanciamento periodico è importante per correggere eventuali squilibri che si potrebbero verificare a causa delle fluttuazioni di mercato. Restare informati su questi cambiamenti e su come potrebbero impattare il vostro investimento è vitale. Seguire le notizie del settore, partecipare a forum e consultare analisti finanziari specializzati in criptovalute sono tutti modi efficaci per rimanere aggiornati. Infine, preparatevi per l'incertezza. Sono un asset class relativamente nuova e come tali presentano rischi unici e imprevedibili. Avere un piano per come gestireste una grande variazione nel valore delle vostre criptoasset è cruciale. Considerate scenari diversi e pianificate in anticipo come reagireste. Grazie per aver seguito questa serie sulle criptovalute e il pensionamento. Speriamo che abbiate trovato le informazioni utili per aiutarvi a navigare in questo eccitante settore finanziario. Alla prossima!